Allora andiamo a vederci un attimo Manfa se possiamo aprire le parole di Ronaldo Tra l'altro volevo dirvi una cosa che ho sentito Si figlio meglio che lo metti tu però Se me lo mandi lo metto Tra l'altro complimenti a Damiano Erfaina Che è stato l'unico in Italia a fare la traduzione in tempo reale dell'intervista di Cristiano Ronaldo Come va? Come va a sapere che è stato l'unico? L'unico, l'unico perché Romano ha fatto tre tweet e io ne ho fatti dodici Vabbè È stato l'unico live, in live Cioè subito mentre Ronaldo parlava io traducevo È stato l'unico in Italia Dove l'ha tradotto? Dove l'ha data l'esclusiva? Con Google Translator è ovvio Cioè il video di Pierz Morgan Ovviamente in inglese ma YouTube ci dà una mano generandoli tutto Ma ce l'abbiamo il traduttore No dimmi dove trovare il video perché non lo trovo Io devi scrivere Pierz Morgan No Allora Manfredi se vai su Talk TV Scritto Talk TV Pierz Morgan Troverai l'intervista Ok intanto che Manfred la va a prendere un secondo però Perché voglio scandare l'ambiente Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo Stiamo calmi, stiamo calmi che Dobbiamo parlare di Ronaldo prima Porca puttana Per favore Otelli, per favore Non trascendere Eh? Per favore Allora Facciamo Faina, visto che lei ha recuperato diciamo i momenti salienti Vado sul suo Instagram, mi vergogno un attimo Però non posso andare a tradurre con l'Instagram del Faina, raga C'è un sito diverso Poi c'è anche Twitter o c'è il mio sito Caro Panciroli, mica dormiamo qua Lei era in balcone Andrea guarda se vai su un sito però in inglese Si chiama Talk TV Dovrebbe esserci tutta l'intervista fatta da Pils Morgan e Cristiano Ronaldo No sai che sto provando ma mi sa che ti devi registrare prima Vabbè ma ce l'hanno registrati dai Dovrebbe essere lì Salvatore contro di me Salvatore si faccia i cazzi suoi Vada su Instagram Panccio, grazie No ma gli sarà crashato tutto raga Questi qua gli è successo di tutto stasera Sì sì vado su Twitter e andiamo a vederci Allora Ronaldo Pensassi come primo risultato c'è il Faina Farebbe ridere come cosa Beh però non mi stupirei Allora questo è Andre così ci metti tre ore Non è per fare lo stronzo davvero Io ho 12 tweet sulle parti salienti Amica sono stupido Finché scherziamo scherziamo No no volevo Allora Esami strumentali negativi Lei mafia non l'ha trovato Non si sta a sbattere Non capisce che io fumo Quindi non ce l'ho sbattendo No mi sto sbattendo Questa è l'ultima frase Mi sto sbattendo ma non lo trovo Da dove parte? Dalla prima del Manchester City Salvo prova a mandarmelo tu un link No no questo Ecco questo qua Lui inizia a prendere questa intervista Ok Io volevo dire Se volete Se volete vedere il video Andate su Pierce Morgan Ma so 47 minuti Salvo però Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Te lo mando Ok Te lo mando adesso su Whatsapp Eccolo qua Trovato Va bene Un servizio devastante Allora intanto comunque Ce l'hai ce l'hai ce l'hai Mi hai mandato? Sì sì Chiaramente sono 47 minuti Quindi Ce l'ho detto adesso Cazzo In inglese tra l'altro Ma ci abbiamo apposto salvo Ma sono 47 minuti ragazzi Ma adesso andiamo Ma aspetta un attimo Porca miseria no? L'abbiamo fatto vedere Il twitter tuo Un attimo Manfred vai su cronica di spogliatoio Qualcosa del genere Per andare a prendere Gli estratti delle frasi From London This Su cronica quindi Non su Faina Sì su cronica Andiamo su qualcosa di serio No perché mi sarebbe piaciuto Con Max Anche Che so che Te Max hai laureato In linguaggi non verbali No ho fatto un master in quello Non so l'ho fatto un master Beh vabbè ok Mi sarebbe piaciuto Comunque sei esperto Parlare anche Del linguaggio non verbale Per cercare un attimo Di capire insieme Come è stata preparata St'intervista Che tradotto ha detto velocemente Adesso è il suo turno Di dire quello che dice Senza censura Cristiano Tutti hanno parlato Di questa intervista Adesso è il turno Di Cristiano Di parlare Di questa intervista Con me Perché 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 è il momento Di dire qualcosa E perché Perché io likei Sì Perché mi piace Perché io likei E io apprecie Perché io Perché io Hai dovuto Sustanare A lot Criticismo Questo In particolare Più 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 Comunque ci sono i sottotitoli Su youtube Se li attivi La gente capisce Senza Se te vuoi vedere 47 minuti Di intervista Vabbè ma ragazzi Ma così È un servizio Vergognoso Che stiamo dando Agli utenti Credetemi Ma perché Scusami Perché Tu stai facendo vedere 47 minuti Di intervista Che io ho visto Tutta Ci sono Molte parti Che sono una rottura Di coglioni Che puoi Riassumere 10 minuti Poi se la vuoi Vede tutta Vedi la tutta Stiamo qua No no Volevo capire Un attimo Insieme a voi Mi sarebbe piaciuto Vedere 10 secondi 20 secondi Per capire anche Un attimo Il contesto Come partiva Grazie Magazzi 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 Chia di cosa Oh Oh Minchia Come partire un attimo il contesto secondo voi ragazzi è tutta preparata perché c'è chi metteva in dubbio sta roba qua mi piacerebbe sentire max su questo beh a livello proprio di struttura secondo me come parte lui certo l'intervista è strutturata adesso non so se sono preparati tutti gli argomenti insieme per lui è totalmente completamente preparato perché entra in una posizione che è tesa però la butta subito sull'ironia e poi fa una cosa importante subito sposta la sua visione su quanto ama il calcio questo per su quanto per lui sia importante su per quanto ha significato per lui no e questo di far capire è un po quello di cui parlavamo al telefono andre dell'induzione emotiva lui cerca di indurre quindi quelle emozioni nel nelle persone per far capire che per lui è una passione un qualcosa di superiore il calcio quindi secondo me è tutto strutturato se l'è preparata bene aspetta 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 un attimo max devi spiegare un attimo con un passaggio su murigno cosi è l'induzione emotiva così faina capisce perché volevo farla con calma sta puntata qua e impariamo qualcosa stasera per favore allora no l'induzione emotiva è una cosa ragazzi segnata vela questa può servire anche con le ragazze scusi però segnata l'antichità la fece per esempio un esempio perigle che era un un generale ateniese che perde la più grande battaglia con sparta e quando torna in città invece di essere linciato verrà acclamato come un eroe questo perché perché lui entrerà a capo chino abbasserà la testa e dirà con voce rotta che pensate ai caduti di questa guerra e non alla battaglia in sé per sé che è un pochino quello che ha fatto diciamo murigno per giustificare i suoi fallimenti praticamente che cosa sta facendo ha spostato l'attenzione su cars drop così che la sua figura da dio non non cadesse giù ha spostato l'attenzione sul derby che no è diverso max un conto sono i caduti e un conto è quello che fai cadere tu aspetta 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 no 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 il brincio che l'hai fatto cadere tu la sono caduti aspetta però aspetta aspetta non è lo stesso non è la stessa motivazione ma è quello che è stato fatto lui è è chiaro che sono situazioni diverse però io ho parlato della cosa di perigle per l'induzione emotiva per spiegare che le emozioni si possono indurre ed è quello che fa murigno murigno pur di buttare perché l'altra volta quando andrea stavamo parlando al telefono mi ha detto lui ha buttato ha spostato l'attenzione in realtà l'ha fatto in modo molto più subdolo perché lui ha proprio cercato di portare questa emotività sul fatto che lui è un condottiero forte e ha fatto vedere che la colpa di tutto quanto è derivante da traditori e quindi non dipende da lui quindi ha cercato di portare nelle persone questa cosa emotiva però fallendo totalmente perché ha distrutto quello che è la visione del proprio del calcio e che secondo me la figura di murigno cade lo stesso cade allo stesso modo poi l'induzione emotiva di perigle e dei caduti è un'altra cosa era semplicemente per spiegare che cos'era chiaro 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 no però questo no almeno così ce la giocano anche con qualche ragazza però max quello che ti volevo dire secondo te lui qua sposta c'è andrà a spostare l'attenzione come vedremo adesso andiamo a vederci degli estratti di frasi abbiamo capito un attimo il contesto ma fa settore indietro c'è con casemiro ho scherzato sul fatto che la finale del mondiale sarà tra portogallo e brasile sarebbe un sogno aspetta che poi andiamo eccoli qua il il primato di mie mali vendute quando sono tornati ero felice ma non segui record sono i record che seguono me questa frase manfredi è stata scusa mese di interrompo è stata da una parte di diretta perché l'intervistatore prismorgan chiede a che se non ronaldo beh tu comunque in un certo modo hai superato messi perché messi dal suo passaggio al barcellona al psg ha è stato entrato nella storia perché è stato quello che ha venduto non mi ricordo quanti milioni di magliette in un giorno e ronaldo passando dalla dalla juve al manchester united ha superato questo record per smorgan intervistatore giocando su questa cosa e detto quindi tu hai superato messi e lui ridendo in un modo sornione dice sono e non sono io che insegui record ma sono i record che inseguono capito artelli quando non si può più fare i gol si parla di record di maglie capito è chiaro che ci è la deriva qui nel 2021 ero vicino al siti hanno fatto molti sforzi per provare a ingaggiarmi ma il mio cuore la mia storia con lo united e se un ferguson hanno fatto la differenza mi permette se posso non credere a questa boiata va bene fammi rispondere però una cosa c'è una grandissima differenza fondamentale tra leggere un'intervista e ascoltarla la dimostrazione è max che prima c'è l'ha capito artelli e non faina c'è incredibile se posso vai vai vi spiego anche il perché cristiano ronaldo quando per esempio fa la battutina che dopo analizzeremo su runei dicendo potrei dire che sono più bello di lui lo dice ridendo scherzando con un tono di ironia per sollevare un po il morale della situazione che si sta facendo tesissima e molti si sono accaniti perché gli devi andato dell'egocentrico della persona narcisista quando in quel momento subiettivo era tutt'altro l'intervista va ascoltata io come damiano che secondo me è un gran professionista l'ho vista tutta in inglese senza sottotitoli io l'inglese lo so senza sottotitoli me ne posso vantare io l'inglese lo so e ronaldo parla chiaro lui ce l'ha con lo united per come l'ho trattato nel mese in cui sua figlia non stava bene nel mese prima della preparazione quando lui ha chiesto del tempo ragazzi più o meno quando è questa cosa qua che ce la vediamo che secondo me il plot twist un po dell'intervista non so non mi ricordo ti dico anche su 47 andrea guarda ci sono più o meno ragazzi anche avevo detto il minuto è a metà verso la mella verso la mezz'ora verso la mezz'ora però ci sono anche tanti passaggi importanti secondo me in questa intervista che lui quando lui va contro i suoi compagni di squadra abbiamo un attimo a vedere se la beccori che lo seguono secondo me ce la fai faccio entrare manuelina buonasera manuelina ciao manu buonasera ciao manu siamo sulle parole di ronaldo manu che stava però lui qua dice il peggior momento della mia vita quindi può darsi che sia qua no fame di tragedie non si può parlare di di sua figlia si compito dopo questo eh ma c'è l'annuncio capito youtube eccola qua è stata anche diciamo l'anteprima si qua dice che praticamente non ci può essere un'altra pubblicità adesso i giovani non lo seguono ah vai salvo dici dei giovani perché lui nomina da lot che tra l'altro portoghese sì 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 io l'ho seguito dice che praticamente i giovani lui deve essere ad esempio per i giovani ma perché lui è il primo ad arrivare al centro di allenamento a carrington ed è l'ultimo ad andare via però lo devono seguire ma non tutti lo seguono allora pismorgan li dice ma com'è possibile che scusa sono davanti a cristiano ronaldo e non ti seguono e lui dice perché secondo me non avranno una grande carriera ad alti livelli e longeva perché non ascoltano le mie parole gli unici che ascoltano le mie parole sono diogo dalot che è molto professionale ah beh sì immaginiamo che c'è l'isandro martinez e casemiro che casemiro non è un giovane però beh beh adesso se ne andiamo a vedere si dice ha 31 anni però Qua gli sta dicendo che non può immaginare come sia rimasto quando sua moglie ha perso uno dei due bambini. C'è un po' più difficile da fare un po' più difficile, soprattutto per la tua madre in questo caso, ma anche per te. C'è stato un po' più difficile per te, questo momento in tuo vita? Probabilmente il peor momento che ho passato nel mio lavoro, come quando mio padre diede. Quando hai un figlio, ti aspettano che tutto sia normale e hai questo problema. È difficile. Come siamo in Giorgini, abbiamo avuto difficolti momenti perché non capisci perché ciò che ci ha fatto. È difficile, è molto difficile capire cosa sta succedendo in quel periodo della nostra vita. Come vedete, il fútbol è continuato, sono così veloce, molte competizioni, il fútbol non stop. Abbiamo molte, molte competizioni. E il passato in quel momento era probabilmente... Facciamo fare un sunto da salvo? Va bene. Il momento peggiore nella mia vita è stato quando mio figlio piccolino non si è salvato. È stato un momento molto difficile. Noi, io e Giorgina, non capivamo cosa stesse succedendo. Ed è stato il momento peggiore nella mia vita. Il calcio non si ferma mai e quindi non si riuscivano a capire. Il calcio non si ferma mai. Non si riesce a capire cosa stesse succedendo. Esattamente. Gio... Scusa Andre... Sì? No, volevo dire una cosa che, pure in ambito comunicativo, il fatto di mettere la parte emotiva proprio a metà dell'intervista è proprio una cosa che viene usata proprio per ricatturare l'attenzione. Perché la soglia d'attenzione dell'esseremole è molto bassa. Quindi si parte in alto, quindi si è partiti con l'ironia, si è partiti con l'introduzione... E questo si fa anche negli spettacoli teatrali, ragazzi. Nel teatro, sì, di solito è proprio cosa che succede. A metà, quando l'attenzione sta per calare, si va giù e si va a prendere quella parte più emotiva, quella che prende la pancia delle persone, quindi si ritira sull'attenzione e si pone... Sicuramente dopo ci sarà un altro piano di argomento che sarà importante... Ok, questa è a metà per richiamare l'attenzione. Ma secondo me... Scusami Max, questo però è un piano di Pierce Morgan e non di Ronaldo. Esatto! No, non c'è tra noi. Non risponde, foro. Sicuramente che ha fatto sta roba, però per farvi... E per rendere ancora più l'attenzione su questa intervista. Cioè, io vi dico una roba. Io nel mio piccolo, come penso ognuno di voi, quando pensiamo a un contesto... Cioè, pensate di esporvi voi al posto di Ronaldo e date l'esclusiva... Cioè, non è che l'hanno data... Cioè, a chi vuoi tu la dai. Ma secondo voi non concordi qualsiasi cosa? Ti fai mandare l'intervista, la fai vedere da 12 periti, 70 direttori televisivi... Andre, Ronaldo si è scelto l'intervista, Ronaldo ha scelto le domande, gliela mandate, ma senza dubbio gliela mandate, e poi lui avrà gestito l'intervista. Cioè, ragazzi... Ma no, ma l'aveva tagliata Giorgino, quest'intervista qua. Ma se dico di più, Cristiano Ronaldo è la persona più influente su questo mondo. Se Cristiano Ronaldo fa un post, è il post in generale... Se pronuncia... Chiaro, chiaro, lo so. Vabbè, quello lì è ovvio. Quindi è ovvio che per fare un'intervista così, di un peso importante, è ovvio. Ma c'è un motivo perché ha scelto lui. Perché? Ha scelto lui, Andrea, perché lui quando era alla Juventus, Piers Morgan andò a trovare Cristiano Ronaldo a Torino e pubblicò l'intervista, la fece in diretta nazionale, e fece il record di visualizzazioni nella storia della TV. Solamente un suo estratto, adesso non so se vi ricordate, comunque Cristiano Ronaldo va a dire a Piers Morgan, all'intervistatore, secondo me hai anche tu dei grandi addominali, su Twitter solo quel pezzo, 10 secondi ha registrato 45 milioni di visualizzazioni. Grande Twitter! Grande Twitter! Che però non fattura mai un cazzo, è incredibile quel social lì. Stanno tutti lì però sta fallendo. Cioè Andre, tu provi a immaginare Cristiano che lì ci ha seguito GV Sport. Così. Vabbè, andiamo avanti. Certo. Certo. È difficile. È difficile. È difficile. È difficile. È difficile. È difficile. È difficile, non c'è scegliere, non c'è scegliere, perché è qualcosa che non sa come reagire. Non c'è cosa che faremo, non c'è. E, ovviamente, ho pensato molto bene. Non c'è cosa che cosiddetta non c'è un termine, non c'è cosa che si tratta, ma i senti. E' un'emozione incredibile, ma come ho detto prima, ho pensato che avevamo almeno Bella, che è la più importante, una morte e una survive, ma è difficile di esprimere. Ma qua chiede gli altri figli, dov'è chi dice del Manchester, raga? All'inizio, all'inizio parla del Manchester lui. All'inizio dove però? Dovrebbe essere decimo minuto, Pancho. Vabbè, ma che spettacolo hai salvato. Andre, però se cerchi una frase clamorosa in cui lui dice qualcosa di assurdo, non la troverai mai. Lui va sempre comunque sia a dire quello che pensa, ma molto lieve, molto soft, perché sa che non può fare un attacco pesante. Poi le sue parole sono state prese e messe su... Pesante di quello che ha fatto. Vogliamo andare sugli allenatori, così introduciamo... Ma su 47 minuti lui dice semplicemente cose abbastanza... Io penso che un professionista dovrebbe essere a 360 gradi. Ronaldo, grandissimo giocatore, il miglior al mondo, tutto quello che gli va dato, gli va dato. Però qua, con una stagione ancora in corso, secondo me, lui certe dichiarazioni su allenatore, su compagni di squadra, eccetera, eccetera, un vero professionista le evita, come le ha evitate del Piero, l'ultimo anno, quando veniva schierato 10 minuti, un quarto d'ora, e lui non gli stava bene, ma non ha detto una parola fuori posto. Quindi il professionista deve essere professionista a 360 gradi. Ragazzi, facciamo i seri, facciamo i seri, come uomo del Piero e Ronaldo non hanno paragone. Poi parliamo di altri gol, che tanto li ha fatti tutti sulle partite 6 a 0, però vabbè. Come uomo del Piero e Ronaldo proprio due cose... Ma Cristiano Manfred è sempre stato una persona corretta dentro il campo. No, Cristiano è un uomo per se stesso, del Piero è un uomo squadra, cioè sono due cose opposte. E io ti posso dire, dipende, Cristiano può diventare e lui è stato molte volte uomo squadra. Ma Fredi cosa c'entra questo che dici? Alate potrà rispondere che Ronaldo è trenta volte più forte del Piero, che dici? Trenta? Possiamo dire cento? Vediamo se nasceva vent'anni fa. 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 Diceva come esempio. Cosa c'entra del Piero? Ma cosa c'entra del Piero? Come esempio fuori dal campo, hai capito? Ma che c'entra? Ma come che c'entra? Ma che ne sai tu se Ronaldo non è un uomo squadra? Cosa dici? Come fa un uomo squadra? Fa l'intervista contro l'allenatore a ottobre? A novembre? Ma che cazzo? Ma te credo? Ma quello stati che non gli hanno rispettato il momento più tragico della sua vita. E' un uomo che viene davanti. Ma cosa c'entra la squadra? Se gli tiene dei calciatori non all'altezza? E' Cristiano Ronaldo, lo dice. Infatti parla di longevità. Quando prima... Io non vi ho interrotto perché vi lascio parlare senza problemi perché questo secondo me è pure, non lo so, è forviante vedere questa intervista così secondo me, ma non è mia la trasmissione, la conduce Pancio. Prima Salvatore dice, no perché se la prende con i giovani dell'United, non si prende con i giovani dell'United. Lui dice, Salvatore, dice semplicemente che i giovani di oggi, secondo la sua visione delle cose, dice che praticamente i giovani di oggi sono nati con la camicia. Questo lui sta dicendo, non sta attaccando i giovani del Manchester United. Bravo! Questo dice nella sua squadra, ma poi parla dei giovani in generale. Ma poi parla anche dei giovani in generale. Io sono d'accordo. Ma secondo me il provvedimento grande... Ci sono giocatori nello United che non mi seguono. Ma non dice i giovani. Ci sono giocatori nello United che non mi seguono. Ma non i giovani, parla di giocatori. A parte, a prescindere dal discorso dei giovani, lui fa delle accuse pesanti alla squadra. Lassa stare i giovani. Dopo lì sui giovani può avere torto ragione. Un giocatore di 38 anni può esprimere un suo parere che sicuramente vale molto di più che è un giovane. Ma quello che ho detto prima è che un professionista lo deve essere a 360 gradi. anche se t'han fatto quello che t'han fatto, con tutte le ragioni... è un bravissimo... Non puoi attaccare! Un bravissimo giocatore. Un bravissimo giocatore. Un bravissimo giocatore. Questo perché non giochi. Questo dico io. Ma a parte che secondo me l'intervista è di quest'estate, forse di settembre credo. Quando non giocava, dammi quello è il primo. Questi tifosi del Manchester United. Però secondo te, posso fare una domanda io? Secondo te, Daniele? Questa intervista non è stata programmata con Ronaldo per farla venire fuori in ottobre? Non ti credo a Ronaldo. Ma sicuramente Gianni. Ma ti dico che perché? A fine intervista, perché questo è il punto. Damiano l'ha visto, non so chi altro l'abbia visto per completo, forse Salvatore sicuramente. A fine intervista lui lo dice, la mia speranza, il mio obiettivo, e io credo che sia sincero, perché sennò viviamo sempre con sta roba di prendere di mira Ronaldo. Viva così, prendo e me ne vado, perché io non posso lottare. No, io non posso lottare sempre perché Cristiano Ronaldo viene maltrattato e odiato. Ronaldo finisce l'intervista da persona sincera e corretta. Dice, il mio obiettivo è dirlo adesso, affinché questo tempo possiamo usarlo per ricostruire e ripartire. Io Gianni ti rispondo, va bene, magari non è stato un professionista... Una frase del genere dai. Aspetta, aspetta, non è stato un professionista... Luca, Luca. Concludo, concludo. Non è stato un professionista a 360 gradi. Però, quando uno viene maltrattato, uno non viene rispettato, uno non viene trattato per il valore che ha, è giusto che si faccia sentire. Non deve subire e stare in silenzio. Perché l'ha sostituito per questo, dici Luca. Cioè, rispettato in che cosa? Eh, Hotelli, bisogna essere... Benaghi non ha rispettato Ronaldo, non gli ha dato il suo tempo con la famiglia, non ha tempo di rientrare nella squadra, non ha dato il tempo di giocare queste partite. Ma questa è una cosa pesante, però, eh. Vabbè. Hotelli tante volte anche lui non ha rispettato le cose. Guarda Milan-Juventus, alla prima sostituzione, lui abbandonò il campo pregandosi di tutto il resto. Guarda quando ha lanciato la maglietta per terra, sbattuta per terra, e poi l'ha fatta passata che gli ha regalato la raccattapalle. Anche lui non è uno stinco di santo. Io parlo fuori. Ma secondo me, Gianni, noi ci dimentichiamo sempre una cosa, raga, posso chiedervi a ognuno di voi anche la chat, perché se siamo sui social ognuno una volta ci ha pensato quando si è iscritto in generale. Cioè questo qua è l'uomo più famoso che c'è sui social. Cioè voi pensate di essere il più famoso del mondo. Ma del mondo, raga. Cioè secondo voi, penso che ognuno di voi un po' ha la fama in piccolo, che ha vissuto un po' porta dell'invidia. Pensate a Ronaldo, che fondamentalmente è la massima espressione. Ti do ragione, ma io dico questo senza invidia. No, non è così. Non funziona così l'invidia. Non posso neanche in competizione, neanche pensare. No, ma non è per l'invidia. Io per dirvi, cioè, a me... No, ma l'invidia non funziona così. L'invidia è... Fabio non voleva andare sull'invidia, voleva andare proprio su Ronaldo per l'intervista. Cioè secondo me, a me quello che mi dà l'idea è proprio di una persona, un po', come si dice, cioè che vive un'esperienza assurda, raga. Grazie Valenciaga. Andrea, lui nell'intervista, l'intervistatore, Piers Morgan, a un certo punto dice, tu sei l'unica persona ad avere mezzo miliardo di follower su Instagram. È come se le Kardashian insieme si fondassero, non arrivano ai tuoi follower. E lui dice, perché secondo me sono carismatico. Quando parlo, trasmetto con entusiasmo dei messaggi importanti. E poi anche ride, scherzando, dice, sono bello, sono come un frutto che tutti vogliono mangiare. Una bella fragola. No, ma raga, secondo me stiamo parlando di uno proprio un po' strano, perché fondamentalmente, cioè a me l'idea che mi dà è un'intervista, però quello che chiede la Massa. È un rettiliano, è un rettiliano di plastica. Però secondo me si è sottovalutato un punto grande, perché adesso si è parlato solamente del fatto delle sostituzioni e le cose così. Lui parla pure del momento in cui ha perso il figlio e in cui gli è stato dato il non professionale perché non si è presentato all'allenamento, roba così. Quella è una cosa importante, che poi ci sia della professionalità da mantenere, è vero, però secondo me bisognerebbe capire bene. Noi non conosciamo bene le dinamiche, perché le vediamo da fuori, no? Però secondo me c'è una parte che c'è pure l'umiliazione dell'essere umano, cioè viene messo in dubbio. A te te more un figlio, non gliene frega magari niente a nessuno, perché tu devi portare i figli. Bravo, bravo Max, è quello che stavo tentando di spiegare ieri sera, bravo. E devi prendere l'umiliazione così. Faina, non faccia la casalinga di Vogueira, per favore. Però questo pure è importante perché se le sue parole si fossero basate solamente sul perché non gioco, perché non mi rispetto, perché così, lui dice pure c'è un punto molto importante su sta roba, che è quello del figlio, questo è importante. Ma lui su quel discorso lì ha ragione, lui su quel discorso lì ha ragione. Però dopo, mettendo in mezzo altre cose, passa quasi dalla parte del torto. Io non è che gli voglio dar torto, io gli dico come la penso io. Allora lui, se si è sentito talmente umiliato, va dal presidente, rescinde il contratto e se ne va e poi dice quello che vuole. Spiega la motivazione perché ha resciso il contratto. Può farlo, tanto se lo può permettere. Non penso che gli servano quei 10 milioni. Raga, vi posso fare una domanda? Ma secondo voi se oggi 16 novembre... Dobbiamo andare adesso sui bilanci, Manfredi. Chiudiamo quest'ora di... Se oggi 16 novembre Ronaldo era capocanoniere della Premier e primo in Premier League col Manchester. Secondo voi sarebbe uscita così l'intervista? No, così. No, però Manfredi c'è da dire una cosa. L'anno scorso Ronaldo ha giocato 30 partite, non tutte da titolare, e ha fatto 18 gol. Io credo che il suo unico errore sia quello che nel momento in cui non ti senti rispettato per mille motivi che possono andare dal personale al calcistico, devi abbandonare il club. Ovviamente se tu continui a chiedere un ingaggio come quello che prendi ora di 30 milioni l'anno, difficilmente... Corrego, 20. Corrego, 20. 20. Quello che è insomma è anche troppo per le condizioni economiche di quelli che non sono top club che evidentemente non lo vogliono, perché è stato proposto a tutti, lo sappiamo. Quindi a mio avviso lui doveva abbassare le pretese di ingaggio, andare in una qualunque altra squadra, magari di seconda fascia rispetto ai top club. Ma lui c'è che secondo me è monarca questa cosa, secondo me lui questa cosa qua la sa, l'ha capita, e stavo pensando che dal punto di vista imprenditoriale, lui fa secondo me questa intervista, proprio per tenere alto il suo brand e dire qua non ho giocato per questi motivi, però io sono ancora da 20, 15, secondo me adesso ridurrà un po' le pretese, ma andrà a 15, 16 milioni, perché lui lo fa per quel motivo lì secondo me. Ma voi ci ti convinti che Ronaldo sia finito? Cioè che Ronaldo non può sapidare nulla? No, ma che non è più quello di prima. No, ma quello è da 30 milioni, Luca. Ma quello di prima sono d'accordo. Scusa, in questa intervista lui, in realtà il suo brand non lo alza così tanto quando dice i giovani non mi seguono, ma lui si attribuisce un ruolo che non ha. Cioè, voglio dire, deve essere l'allenatore semmai a essere seguito, cioè lui ti fa capire ben chiaro che vuole dei ruoli e un potere che non tutti i club sono disposti a dargli, anzi, in realtà dopo quest'estate... Guarda qua, guarda qua, guardate qua, però questo qua è Ronaldo oggi con Bruno Fernandez, che arriva ieri, 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 due giorni fa. Due giorni fa. E ce n'è un'altra anche. Si vede un po' lì. C'è... Basta, non è successo niente, ragazzi. Allora, anche qua ragazzi, spieghiamo. Non è successo niente, fermati. No, Luca, però spieghiamo. C'ho le notizie io. No, ma sì, ma hai ragione. Abbiamo parlato con Bruno Fernandez, amico di Viviano, ci abbiamo parlato, non è successo nulla. Viviano, tra l'altro, mi ha spiegato che la cosa con Cancelo, lui, 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 Viviano, l'ha fatta 70.000 volte in squadra, con amici suoi, con compagni suoi. Basta, montare le poche. Qua si sta montando. Qua ogni cosa, ogni passo che fa questo Cristiano, viene denigrato, viene attaccato e viene insultato. Tra l'altro, nell'intervista, lo dice anche, dice la stampa internazionale, il 90% delle volte mente. E il restante delle volte è perché se la prendono sempre con me, è spazzatura, se la prende sempre con me e con la mia famiglia. Ma ragazzi, Bruno Fernandez e Ronaldo sono amici intimi. No, ma spiegaci, non è successo nulla. Tra le altre cose, Bruno Fernandez entra dentro lo spogliatoio, ma prima si era visto con tutti i compagni di squadra. Stavano scherzando. Quindi stavano scherzando. Certo, ma anche con Cancelo. Ma chiamate qualche ex calciatore o qualche calciatore. Sentite quante ne succedono. Ok, posso dire che sto video qua oggi ha fatto 15 milioni, essendo un programma di calcio, ne parliamo, dammi. Ho capito, eh. Ma è normale che faccia notizia, Andre. Ma scusami, ti spiegavo il motivo, capito? Ma io vedo un video del genere, io, personalissima opinione, io vedo un video del genere e dico, vabbè, stai una scherza. Ma poi Manchester United e Manchester City, Andre, non avrebbe neanche senso. Perché Cancelo dovrebbe prendere il slago Ronaldo? E ti dico di più, a parte il fatto che con Bruno Fernandez c'è una cazzata, perché hanno parlato insieme, si sono confrontati, avevano legato un'intervista a giugno, parlando che loro sono un gran nucleo, grandi amici, anche intimi, come diceva Damiano, e vogliono puntare a far bene in questo mondiale. Poi Ronaldo, a un certo punto nell'intervista, la butta a sorridere con Cancelo, dicendo del Brasile Ronaldo, del Brasile contro il Portogallo, per prendere in giro un po' l'Argentina. Ma alla fine l'obiettivo del Portogallo è far bene. Ragazzi, dobbiamo andare sui bilanci di Juve e Inter. Spai, salvo in chiusura, chiudi salvo, chiudi tu, chiudi tu. Secondo me, oltre al fatto che, come tutti state dicendo, parla del figlio scomparso, è quella la vera notizia. Ma la vera notizia giornalistica è che lui distrugge Ragnik e tutta la dirigenza del Magister United. Perché lui dice, non è neanche un allenatore, è venuto dopo che è stato esonerato Soskjer e nessuno ha capito come mai. E questo, secondo me, è il vero punto. Ha distrutto Runei, ha distrutto Runei, gli ha fatto fare una figura di merda a Runei. A Runei gli ha detto, sei mesi fa stava a casa mia, ha portato i suoi figli, mi ha chiesto di venire a casa sua a giocare a calcio e poi leggo queste cose. Forse a questi personaggi piace solo andare in copertina. Ma ragazzi, qualora fosse vero, perché non è che io sto dicendo che Ronaldo sta dicendo la verità, ma qualora fosse vero, è gravissimo. Ma che ha detto Runei di lui? Scusate, cosa ha detto Runei? Di così grave? Ma Runei dice praticamente che Ronaldo non deve giocare più al Magister United, perché come diceva, sei l'Alex Ferre... Vabbè, non è che ha detto che è una persona di merda, ha detto... Però al club deve andare via. Cioè non è come te con Petagna, Faina. Viva Runei, viva Runei! No, però aspetta, no, però aspetta, non hai capito. Cioè io non vengo, scusami André, io vengo a casa tua, gioco con tua figlia e poi faccio un'intervista dove dico ma per me Punch è un cretino, non sa condurre. Non ha detto che è un cretino. Vabbè, dai, ma hai capito. Vabbè, Manfre, nel senso come per dire... No, dici, è vecchio, secondo me ormai non fa più per me di condurre. Eh, è questo, ma secondo te... E magari a Pancio non gli ho detto niente, magari a Pancio gli ho detto sei il numero uno o sei in grande. Immagina. Allora, un'altra cosa che... Dammiro Quei ha donato 100 bits e dice Pancio Cansello aveva discusso con Giao, Felix e Ronaldo e è andato a calmarlo. Quindi ha spiegato la cosa. Hai capito che ti voglio dire? Quello è andato là e magari ha detto a frate, falla finita e quello gli rode per culo con la canna, me la sciame sta. O Cansello e problemi nello spogliatoio del Ronaldo. Ma ragazzi, per favore. Oh, ma dammi, ma qua... Cioè, scusami un attimo, ma è normale che però... Cioè, guarda nel piccolo... La Ferragnaz va a un museo e fanno 10.000 visite. È normale che se esce una roba così di Ronaldo... Ma certo. Se ne parla. Però una persona con un minimo di cosa dice Oh, aspetta un attimo. Ma non posso... Che cosa è successo? E si documenta. No, no, stanno litigando. È successo un macello. Che macello? Allora, allora, allora. Chiudiamo con un ultimo verso di Ronaldo che dice Allegri tra i migliori al mondo. Così ci buttiamo nell'argomento caldo della sera. Mi ha detto che Gianni... Non ha detto proprio la... No, ma non ha detto... Dice? Questo appena... Appena ha saputo che tornava Allegri e ha mandato via le macchine sei mesi prima. Gianni! Gianni, non ha detto così. Non è così. Questa è un'altra mistificazione. Non ha detto così. Cioè, avete capito la stampa? Non ha detto così. Lui ha nominato Allegri insieme a Zidane, mi sembra Murigno, Fernando Santos, e ha detto... Ferguson e Ancelotti. Ferguson e Ancelotti. Lui non ha detto sono i migliori al mondo. Questa è un'altra stronzata che ora sta girando su tutta la stampa mondiale. Faina, si calmi, si calmi. Non la prende. Faina è il traduttore. Mi spiego. Ha riaperto il suo sito da tre o quattro giorni. Erfaina.it E quindi praticamente fa sta cosa qua a discreditare. La salvinata, no? Io spero davvero che sia come dice Damiano, perché tanto che i giornalisti, il 90% dei giornalisti, gli scrivono tutte strozzate, sono tutti i servi del padrone. Questo ormai l'abbiamo visto anche in Italia, lo vediamo tutti i giorni. E spero che sia così, perché Allegri arriva a Torino e vuole prima di arrivare, vuole che Ronaldo vada via. Ronaldo quando sa che arriva, sei mesi prima, manda via le macchine, perché vuole scappare e adesso mi viene a dire che è uno dei migliori allenatori e cosa? Allora qua siamo proprio alla frutta, veramente. Gianni, Gianni al volo. Lui, lui, lui parla, lui parla di Allegri nel contesto di Ragnik e lui dice Ragnik non lo conosce nessuno quando è arrivato al Manchester United. Io nella mia carriera sono stato allenato da miglior allenatore del mondo e cita testualmente Zidane, Murigno, Ferguson, Allegri, Ancelotti e Fernando Santos. Raga, dobbiamo andare. Allora, saluto Salvatore, lo ringrazio. Grazie mille Salvatore, tanto venerdì vieni anche per la Premier. E grazie mille a Max, Max. Grazie mille a Max.